amici telespettatori ecco qui le molle dell'arte del riposo in realtà sono le molle che sono dentro questi materassi però noi abbiamo bisogno di giovanni per farci spiegare meglio la funzione e l'utilizzo di queste molle ci sono diversi tipi di molle e hanno ogni molla un lavoro diverso ora questo innanzitutto che è un campione della molla tradizionale la famosa batterasso a molle ortopedico si usa questo tipo di molla che è una molla biconica che è tutta collegata tramite una spirale in acciaio per cui quanto lavora lavora in diciamo assieme non ha un lavoro capillare nel dormire poi abbiamo questi qui fanno parte delle molle indipendenti sono le classiche 800 molle sette zone le 1600 molle e le 3200 molle come si può notare sono diametri di molle diversi sono molto più piccoli in base alla quantità di molle molte persone pensano forse giustamente come dar a pensare che più molle ci sono le 3200 molle sia un materasso più rigido a confronto delle 800 dicono sono più molle più rigidità non è vero perché le 3200 molle sono più piccole ma hanno anche un supporto molto minore per cui cosa succede che sono la stessa portanza diciamo più o meno delle 800 molle ma danno un accoglimento un'accoglienza al corpo molto più capillare e molto più cioè tu dove spingi vedi qui spingi una molla qui è molto più grande qua fa corpo diversamente per cui più molle ci sono tra virgolette è quasi più morbido è più capillare è nell'accoglienza poi dipende sempre come si parlava prima di come viene abbinato il sandwich chiamiamolo tra molle strati superiori e bottitura quello che viene ma di base le molle sono sono la diversità di molle si nota a occhio nudo la grandezza di molle vede già tra le 1600 e le 3200 molle sono molto nello stesso spazio sono molte più molle e sono molto più piccole con molte più capillarità bene abbiamo visto allora che la tecnologia è sicuramente andata avanti e si è evoluta e anche l'altezza di questi materassi naturalmente è un pochino più accresciuta mi viene in mente allora una curiosità giovanni una volta si giravano i materassi per fargli prendere aria per fargli riprendere un po la forma adesso allora diciamo che oggi come dicevi tu la tecnologia è cambiata in generale per tutti i materassi per cui è cambiata anche la manutenzione dei materassi considera che una volta i materassi avevano un lato invernale e un lato estivo oggi una cosa è quella andata a scomparire per il fatto che oggi ci usano fibre ad allergiche termoregolatrici per cui l'ane e cotone per caldo e freddo quello esiste e in più c'è una cosa che una volta non c'era per l'igiene la respirabilità la lavabilità della fodera per cui tu oggi la fodera la puoi lavare in lavatrice la puoi sterilizzare invece una volta era una scatola chiusa dovevi sbatterlo per la polvere aspirapolvere oggi questa cosa qui non esiste invece per quello che riguarda l'usura del materiale la manutenzione materiale come usura il consiglio che noi diamo che è un consiglio penso generalizzato è quello di ruotare il materasso testa piedi almeno una volta al mese perché questo perché innanzitutto di solito nella coppia ci sono pesi diversi uomo donna e poi noi fisicamente usiamo la parte superiore del corpo dal bacino in su abbiamo circa 70 per cento del peso che va a usare 70 per cento del materasso superiore ruotandolo mettiamo la parte non usata che tra virgolette ha sotto le gambe sotto la schiena lo usiamo uniformemente a 360 gradi questo fa in modo che materasso non abbia avvallamenti strani più basso da lui più alto da lei nel mezzo girandolo ruotandolo testa piedi lo usiamo uniformemente lo usiamo per più tempo miglioriamo la durata del materasso usiamo grazie a tutti grazie a tutti